Musica Musica Presentato alla cittadella regionale di Catanzaro il progetto redatto dal comitato che ha proposto una variante al megalotto 6 Simeri-Crotone A Catanzaro illustrati i risultati raggiunti dai progetti sulla sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro Progetto Calabria Sicure e sicurezza in forma Open Day della FIDAPA di Catanzaro presso l'Università Magna Grecia Genni spettatori un benvenuto dal TG di S1 TV con il consueto appuntamento con l'informazione E' morto ieri pomeriggio nell'ospedale di Catanzaro dove era ricoverato da poco più di un mese Mario Demeco, l'operaio di 56 anni di Isola Caporizzuto rimasto gravemente ferito nell'incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 5 aprile a Crotone Demeco aveva riportato una grave fattura al bacino Sale così a tre morti il bilancio della tragedia provocata dal crollo di un muro lungo la strada litoranea di Crotone nella quale persero la vita sul colpo due suoi colleghi Giuseppe Greco di 51 anni, anche egli di Isola Caporizzuto e Dragos Petru Chiriacro meno di 35 anni che viveva a Rocca di Neto Un'operazione della Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria è stata eseguita per l'esecuzione di sei ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP su richiesta della Direzione Distrattuale Antimafia Reggine nei confronti di altrettante persone accusate di associazione mafiosa e di intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato le cosche di Indrangheta, Tegano e Condello Contestualmente è stato disposto il sequestro di 5 imprese operanti nel settore dell'edilizia riconducibili direttamente o indirettamente agli indagati per un valore di 11 milioni di euro Vende smartphone online per 2 milioni di fatturato ma non applica l'IVA Un commerciante è stato denunciato dalla Guardia di Finanza del gruppo di Locri per evasione fiscale I finanziari nel termine di un'attività ispettiva hanno scoperto il modus operandi messo in atto dell'esercente negli ultimi 5 anni attraverso la vendita di prodotti senza l'applicazione dell'IVA Il sistema scogitato ha comportato il mancato versamento di oltre 500 mila euro di imposte consentendo ai consumatori finali di poter ottenere gli smartphone a prezzi altamente concorrenziali rispetto al valore di mercato Il controllo fiscale attuato dai finanzieri del gruppo di Locri ha consentito di svelare il meccanismo utilizzato attraverso l'indebito ricorso dopo l'acquisto dei prodotti con il sistema del reverse charge al cosiddetto regime del margine previsto dalla legislazione fiscale per la cessazione di beni usati Cambiamo completamente argomenti è stato presentato alla cittadella regionale di Catanzaro il progetto redatto dal comitato che ha proposto una variante al megalotto 6 sime di Crotone in grado di accorciare a mezz'ora la percorrenza fra i due capoluoghi in servizio è stato presentato alla cittadella regionale di Catanzaro il progetto redatto dal comitato che ha proposto una variante al megalotto 6 della strada statale 106 Simeri-Crotone in grado di accorciare a mezz'ora la percorrenza tra i due capoluoghi presente l'amministratore delegato e direttore generale di Anna Sarmani il governatore Oliverio oltre all'assessore Musmanno tanti sindaci e rappresentanti istituzionali una tappa importante ma non ancora decisiva in quanto ne iniziano ora le verifiche di fattibilità In una Calabria divisa dai tanti campanili una strada veloce può contribuire all'unità? Ritengo proprio di sì, ritengo che sia già un primo passo verso quest'unità il fatto stesso che siano state firmate 37 delibere comunali oltre alle due province che hanno firmato in consiglio le delibere significa già un'unione di sentimenti e di volontà verso questa comunione D'altra parte le diversità politiche non significano mai divisione quando si parla di infrastrutturazione, quando si parla di grandi temi anzi è il momento per fare sintesi, per fare coesione, per raggiungere gli obiettivi Questa arteria è importantissima che diventerà un collegamento e avvicinerà ancora di più i due comuni, Crotone e Catanzaro in questo senso avvicinando la Mezzia, avvicinando i servizi ma soprattutto ragionando, e questa volta lo dico da Presidente della provincia su quello che è il neopresidente della provincia lo dico in un pensiero e un sentimento che è quello di aria vasta e probabilmente di aria metropolitana che dovrà vedere per forza di nuovo i comuni, Catanzaro, Crotone e la Mezzia tutti insieme perché se non ragioniamo in questo modo e pensando ad un'area vasta e pensando ad un'area metropolitana credo che rimarremo schiacciati da noi stessi, dalle nostre piccole comunità a cui siamo ridotti Bisogna mettere in sicurezza veramente la Statale 106 e la Statale 106 può mettere in sicurezza soltanto se si creano delle strade con lo spartitraffico centrale per questo noi abbiamo approfittato nel raggiungere due obiettivi il primo è quello di collegare il capoluogo di provincia di Crotone con il capoluogo di regione Catanzaro su un tracciato più ridotto che attualmente sono 76 km invece con il nuovo tracciato si riduce a 55 km per questo fare un nuovo tracciato di 55 km percorribile a 110 km all'ora il tempo di percorrenza è mezz'ora in più con lo spartitraffico centrale si riducono notevolmente anzi si cancellano gli scontri frontali fra le automobili che sono le cause principali delle vittime sulle strade sulla base finanziaria c'è anche un risparmio o no? ma certo ma invece di fare tanti interventi tampone sull'attuale tracciato creare un nuovo tracciato realizzando questo tracciato con una riduzione di 21 km è chiaro che il risparmio è notevole poi il tracciato che noi proponiamo soprattutto nell'area sul territorio della provincia di Crotone è tutto pianeggiante e in buona parte riprende il vecchio percorso della ferrovia calabrucana che è dismessa dal 1972 abbiamo un piano finanziato per quasi 2 miliardi e 200 milioni di euro che prevede ovviamente oltre al megalotto il rifacimento e la messa in sicurezza del tracciato attuale questo è completamente finanziato ed è la priorità per noi che dobbiamo gestire ovviamente giorno per giorno questa strada che per il traffico che ha è sicuramente inadeguata la seconda cosa è ovviamente studiare tutte le soluzioni di ottimizzazione di miglioramento del servizio che la strada da sola non può dare e su questo c'è anche il progetto di fattibilità su cui ovviamente nulla è scritto si apre adesso un confronto con il territorio per vedere e verificare quale sia la soluzione migliore e poi eventualmente come finanziarla e oggi ha avuto modo di percorrere la 106? sì assolutamente l'ho fatta varie volte è sicuramente una strada che per i territori che attraversa non è adeguata per la lunga percorrenza ha una commistione di traffico leggero quindi di pedoni, biciclette, motociclette insieme al traffico pesante e questo assolutamente non è adeguato chiaramente c'erano soluzioni miraggio come erano quelle fino a ieri ipotizzate che non sarebbero mai state finanziate e forse nemmeno i nostri nipoti avrebbero visto e soluzioni più concrete che almeno tentano a mettere in sicurezza la strada su questo abbiamo lavorato e abbiamo ottenuto il completo finanziamento a dicembre di tutto il piano di adeguamento questo ovviamente passa attraverso la sistemazione del tracciato così com'è, esistente che nell'orizzonte temporale diciamo professionale di tutti noi è più concreto come raggiungimento il completamento delle trasversali cioè trasportare dallo ionio al terreno il traffico pesante e di lunga percorrenza nel modo più sicuro e più veloce possibile per questo abbiamo completato la Due Mari due anni fa stiamo completando e migliorando le viabilità esistenti completando la firma Sibari a nord ed è completamente finanziata la statale delle serre queste trasversali devono portare insieme alla Ionio Tirreno il traffico sull'autostrada del Mediterraneo questa è la soluzione di breve poi se c'è un miglioramento di alcuni tratti sulla Ionica che possano darne una funzionalità diversa questo lo stiamo vedendo abbiamo aperto il tavolo è un tavolo di confronto con il territorio e questo diciamo ci rende disponibili Cosa pensa delle gravi problematiche strutturali e giudiziarie che hanno interessato la variante di Catanzaro per esempio? La variante di Catanzaro intanto è in corso un piano di sistemazione da parte del contraente generale che non ha zero costo è a totale carico del contraente adesso facendo progetti nuovi, nuove infrastrutture capita che si sbagli l'importante è che chi sbaglia paga ecco questo è la cosa su cui ANAS non deroga e su cui stiamo lavorando poi se questo innescherà altro tipo di analisi, indagini questo non sta a me farlo siamo ovviamente trasparenti e disponibili a qualunque collaborazione Si è tenuta a Catanzaro la conferenza stampa finale di diffusione dei risultati raggiunti dal progetto sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro Progetto Calabria Sicure e Sicurezza informa i particolari in questo servizio Oltre questi importanti progetti che presentiamo oggi che hanno sicuramente un impatto molto positivo sul concetto di prevenzione sul lavoro inizieremo anche una campagna per la pubblicizzazione dei bandi ISI che sono finanziamenti che vengono dati dall'Istituto alle imprese per migliorare gli ambienti di lavoro e quindi attuare la sicurezza sul lavoro negli ambienti di lavoro Gli stanziamenti sono circa 11 milioni di euro è un importo elevato che l'Istituto mette a disposizione proprio per le aziende per fare in modo che si attui sempre di più il concetto di prevenzione sul lavoro Noi con questa giornata con questa conferenza stampa vogliamo proprio testimoniare che ci sforziamo di mantenere alta l'attenzione su questo tema proprio perché siamo assolutamente convinti che la cultura sulla sicurezza e sulla prevenzione nei luoghi di lavoro e le buone pratiche non possono che produrre dei risultati positivi proprio per commentare in maniera diversa i risultati di oggi e i risultati di domani anche in termini, lo dico, anche nella qualità di direttore di Confindustria in termini di andare a configurare un vantaggio competitivo per le imprese che adottano buone pratiche Purtroppo devo dire che dai dati INAI dell'ultimo triennio la situazione è stabile purtroppo nel primo trimestre del 2018 c'è una tendenza all'aumento e quindi c'è una maggiore sensibilizzazione verso tutte quelle iniziative che possono in qualche modo arginare il fenomeno e migliorare quindi la prevenzione e cercare di diffondere la cultura della sicurezza che è la cosa che attualmente manca principalmente tra imprese e lavoratori vorrei ricordare che in ogni appalto c'è il peso di finanziamento della sicurezza in termini economici e che addirittura non è soggetto neanche a ribasso quindi sono dei soldini che le imprese hanno nel momento in cui affrontano il lavoro pubblico e dove hanno una partita economica che è dedicata esclusivamente alla sicurezza nei ruoli di lavoro Operava come associazione sportiva dilettantistica ma di fatto svolgeva un'attività commerciale con un ingente volume di affari e impiego di mano d'opera in nero la guardia di finanze del comando provinciale di Cosenza attraverso una verifica fiscale che ha svelato l'omessa dichiarazione di ricavi per 200 mila euro da parte di una struttura turistica che figurando come ente no profit gestiva uno stabilimento balneare d'elite la struttura godeva indebitamente delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di settore fornendo servizi ad una clientela nazionale e internazionale il Lido era dotato anche di un ristorante con pietanze a base di astice e ostri che disponeva di una ricercata carta dei vini le finalità non lucrative e la partecipazione degli associati in molti casi anch'essi veri e propri clienti ignari del loro ruolo fittizio all'interno dell'associazione erano solo riportate formalmente nello statuto dell'ente per beneficiare di un regime tributario di favore si è svolto l'open day organizzato dalla FIDAPA di Catanzaro presso l'Università Magna Grecia vediamo siamo qui oggi a celebrare la nostra giornata open day FIDAPA una giornata che vede impegnate le nostre socia in tutta Italia in questa stessa giornata tanto a livello sezionale quanto a livello distrettuale per raccontare alle donne chi siamo e cosa facciamo la FIDAPA che ricordiamolo è l'acronimo di Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari è un'associazione che conferisce nella BPW International ovvero un'organizzazione internazionale che vede coinvolti molti paesi del mondo e ci vede impegnate nel sociale con una missione importante che è quella di promuovere incoraggiare e sostenere le donne professioniste tutte ad immettersi nel mondo del lavoro le incoraggiamo le sosteniamo con una serie di iniziative sempre diverse sempre attuali e che garantiscono un'adesione e una partecipazione effettiva delle donne nei diversi aspetti della nostra società abbiamo scelto oggi non l'area convegnistica ma la presenza presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro proprio al fine di incoraggiare le giovani donne a partecipare alla vita sociale economica amministrativa e politica del nostro paese sicure che nel momento della formazione che la donna ha bisogno di ulteriori stimoli e di maggiore sostegno per diventare una donna migliore siamo qui oggi presso questa sede prestigiosa dell'Università della Magna Grecia per un evento importante a livello nazionale che è appunto l'Open Day questo evento è stato voluto dalla Presidente nazionale ha proprio lo scopo di divulgare i contenuti e i valori della FIDAPA noi oggi abbiamo voluto come sezione di Catanzaro con la presidenza di Costanza Santimone voler proprio attivare e rendere operativi questi valori attraverso proprio la divulgazione di questo materiale divulgativo in questa sede coinvolgendo soprattutto le giovani generazioni perché il problema delle discriminazioni nei vari ambiti del lavoro e nella società sono purtroppo molto sentiti nonostante ci troviamo ormai nel terzo millennio e quindi è importante l'attivazione di questi principi dei quali la FIDAPA la FIDAPA crede e afferma intende affermare diciamo che anche come federazione ogni due anni viene istituito un tema nazionale e quest'anno effettivamente si parla di creatività e di innovazione e quindi la creatività femminile e l'innovazione necessari per lo sviluppo economico sociale e politico del nostro paese e quindi noi ci attiviamo anche attraverso l'attuazione e le iniziative di eventi intorno a questo tema nazionale per attuare tutti i principi e i valori che la FIDAPA intende attuare Sì credo che la FIDAPA svolga un ruolo molto importante in assoluto ma nello specifico quando si reca in posti come le università perché è pieno di donne giovani che a breve avranno l'esigenza di mettersi nel mondo del lavoro e quindi avere il supporto di un'associazione così competente così determinata penso che sia un voto raggiunto per cercare una massima integrazione per superare le possibili discriminazioni che ancora in Italia esistono e quindi faccio gli auguri all'associazione per il lavoro che svolge Bene era questa l'ultima notte del nostro TG come sempre grazie di averci preferito e buon proseguimento con la programmazione della nostra rete arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti